C'è Capadria Buonasera Buonasera Come va? Tutto bene Lei è il protagonista? Sì Come si chiama il suo personaggio? Cazzo ricorda Eccoci arriva Il signor Attimede Attimede Anche lei Preverà una piccola percentuale Da questa grossa vincita Normalmente Sì Tutto bene Così cosa? Perché stanno tante gente qua? Lui è Erico Mentina Alias Teo Carriero TG Muno Signor Archimede Anche a lui Del lei o del tu Sempre No ma questi temi C'è l'ho giusto E' un po' di vita nel gioco Il presenti Giuseppe Cardino Buongiorno Come sta? Bene bene Buongiorno Si accomunce Allora? Signor Conte Come va? Tutto il bene Tutto il bene Sole Questi Quanti anni ha? Diciamo Una Pulicina Va E' un po' di vita E' un po' di vita E' un po' di vita Beh però Lo vedo ancora in forma Ancora diciamo Tira 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 Effettivamente tira Io sono il barone Lello sanità di tappi Lo so nemmeno come si chiama E' un po' di vita E' un po' di vita E' un po' di vita Io sono il barone Lello sanità di tappi E' un po' di vita Scusi Barone sanità di tappi Sì vabbè Sì vabbè Sì vabbè Buongiorno a tutti Io sono Egilio E Perpetua Soprattutto Perpetua E poi Mister Duff E sono Duff Di Apar E' un po' di Duff Ha il bello stesso la casa Ma non lo so Io sono abituato a conti Che hanno mille Piscine Eh purtroppo C'è un po' di crisi Vabbè non stessa C'è un po' di crisi 8 milioni di euro 8 milioni di euro Salve Io sono Il mega direttore Della banca di Targumures Non che Mister Arthur Allora Signor Bandroni Può passare fra qualche giorno E impiegare Si chiama Francesco Convertino Che cosa ne pensi Di questa vincita Ti faccio una buon solstizio Ma guarda Sono davvero contento Per il mio grande Amico di infanzia Buon solstizio Ok Mi conoscevate Sì sì abbiamo Grazie di tutto ragazzi Buona sera Grazie anche a Gigi Quei solstizio carissimo Come stai? Bene bene O se appunto Che aiuti tutti E un tuo vecchio amico Di infanzio Non lo aiuti? Sì Trovai L'ottomomila Tappa E Gigi Sei andato Hanno un altro gatto è lui il vincitore di 80 milioni di euro sei tu il vincitore azione prima forza sorsizio come mai la trovo qui con i bagagli e niente sta facendo i bagagli che diciamo devo trasformerlo ma quanto è un panor vicino a non hai visto la scena epica cosa vuoi fare? diciamo togliere un po' di punk e un po' di stout stout? perfetto perfetto questo albero è per te mi ha dato il mio amico e tu questo bau 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 sorsizio ha vinto 80 milioni di euro eeeh si archimede anche tu prenderai una piccola percentuale su questa vincita si intorno ai 40 mila euro ah 40 mila? si te lo ho 4 mila e ciao signor coach è una questione di etichette e perchè non la togli? sempre robocot non dare il pane al cane pazzo come dire cosa? non dare il pane pazzo al cane facciamo qui ci vai perfetto dove sei? perfetto 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 sì ma se per te jamais 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 nero oh oh o o o o do o ah ah ho buon buon giorno buon giorno buon giorno sono un sorzizio badrone molto piacevole I am Mr. Rumblecut Ciao a tutti Ciao a Marte Nel cassette film l'ambito non va in fronte Beh? Un ciao a tutti Un saluto a tutti da DG Muris Un saluto a tutti da DG Muris Un saluto a tutti Saluto Non ce ne mettemo Vinycote! deductioni Maron! Beh Shhh Ah 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 Ah